TIPPINO, IL POSTINO Ah che bello! Oggi non c'è nessun pacco in giacenza, quindi posso prendermi il tempo per lasciare un appunto a Marrino. Settimana prossima non ci sarò. Allora, caro Marrino, sono lontano, puoi sostituirmi? Adesso glielo attacco qua con un pezzetto di scotch. Un pezzetto del mio scotch. Qui o qui? Il teatro prova. Ciao TIPPINO, sono T-Rex. Ho molta fame, lo so che non ho ordinato niente, ma non potresti portarmi qualcosa da sgranocchiare? Non lo so, un animaletto, un panino, una merendina, uno scogliattolino, un tuo amichetto. Ho fame, ti aspetto. Qualcosa da mangiare? Ma io non, 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 cosa? Non lo so, io ho... Ah sì, ci sono i muffin, il cardamomo che ha comprato Marrino, ma non li mangia mai perché ha detto che non gli piacciono. Mi ridò il T-Rex. Allora, qua, scatola, dove sono? Eccoli qua. Ma sì, non li mangia più. Arriva, signor T-Rex. T-Rex. Gli amici non si mangiano. Domenica 26 febbraio, ore 16.30. Vi aspettiamo. Affamati come dinosauri. Senza le chiavi non si va da nessuna parte. Arrivo, bici!